Ieri il rientro sui banchi di scuola per migliaia di studenti pesaresi, scuole in cui però non hanno mai smesso di agire i tanti operai al lavoro sui vari cantieri di edilizia scolastica sparsi per la città. Entro la fine del 2023 saranno infatti tre le demolizioni scolastiche per altrettanti edifici da ricostruire ex novo. Un piano di lavori già cominciato in piena estate con la demolizione della scuola materna Scarabocchio di Via Rigoni sullo stesso terreno in cui sorgerà il nuovo polo dell'infanzia 0,6 anni grazie a 3 milioni e 700 mila euro di fondi PNRR. Esattamente, di fronte alla grande opportunità offerta anche grazie alle risorse del PNRR di fare investimenti davvero storici direi sull'edilizia scolastica che ci consentiranno di avere presto tre nuove scuole, la Scarabocchio, l'Anna Frank e anche la Dante Alighieri. Se lo Scarabocchio è già stato demolito portando da ieri bambini e famiglie a migrare sulla sempre più popolata area didattica di Viale Trieste, in pieno auturno partirà invece la rimandata demolizione della Dante Alighieri, i cui studenti sono trasferiti a Pesaro Studi già dallo scorso anno. Da ieri sono invece alloggiati temporaneamente nel centro civico di Vismara gli alunni della scuola primaria Anna Frank, la cui demolizione è attesa per novembre. A Vismara, dove l'ex sede del quartiere, della circoscrizione, è diventata uno spazio davvero anche moderno, se vogliamo, con delle divisioni, con delle pareti mobili, attrezzate, trasparenti, quindi anche secondo le nuove modalità didattiche abbiamo rifunzionalizzato l'Anna Frank. Intanto Soria, sul terreno dell'ex Scarabocchio, si prepara a vedere sorgere un nuovo nido e una nuova scuola dell'infanzia. Lo Scarabocchio sono già partiti i lavori, come avrete immagino avuto modo di vedere, sono partita, di fatto si sta concludendo la demolizione della vecchia scuola, a breve poi partirà proprio la realizzazione di una nuova scuola, anche lì una scuola al top dell'efficienza, della sicurezza, quindi una scuola, tutte scuole sul modello brancati per intenderci, quindi grandi interventi di efficientamento energetico, di sicurezza sismica e davvero scuole moderne, innovative e funzionali. Grazie. Grazie. Grazie.